Se vogliamo parlare di denigrare le persone, va bene, allora si abbassa sui livelli di quelli che sta denigrando, anche peggio, va proprio fuori campo. Parliamo invece del contenuto, perché quello che abbiamo visto prima è un esempio di integrazione. Questo è un paese che ha sempre accolto chi lavora. Qui il discrimine che va fatto, va fatto tra chi è irregolare, tra chi non è in questo paese come rifugiato, e viene mantenuto in albergo al posto di essere classificato e protetto se è clandestino ma è nato fuori, se invece è uno straniero che ha il diritto di protezione è stata. Perché qui, caro Andini, si parla dei clandestini che sono in Italia nel vero, ma non si parla anche dei diritti di chi emigra a rimanere nel proprio paese. Perché comunque questo è un paese che sta accogliendo tutti indiscriminatamente. E' questo che sta credendo.